Forse è arrivata ad un buon punto la telenovela che ha cattelizzato di recente il Consorzio Acquiatistico del Tre Sorgenti. Hanno deciso di non consegnare le reti? Secondo me hanno fatto bene. Diversi sindaci hanno riflettuto sulla situazione reale del Tre Sorgenti. Questa discussione non andava neanche affrontata all'inizio perché c'era la legge 2 del 2013 che è chiarissima, ma chi gestisce l'acqua in modo pubblico deve continuare a farlo in modo pubblico. Noi abbiamo avuto purtroppo l'opposizione anomala del nostro sindaco e continua ad essere anomala perché solo lui assieme al sindaco di Ravanusa che insistono e vorrebbero che il Tre Sorgenti fosse consegnato alla gergente acqua. Ma emerge la necessità da parte degli altri, che sono la maggioranza, di vedere quello che si è detto nelle diverse riunioni. Io sono certo che emergerà questa forza unica che è quella di lasciare le cose come stanno, anzi di adoperarsi per fare il contrario, per far sì che da questo servizio esca fuori la gergente acqua perché non è all'altezza. Abbiamo fatto un consiglio straordinario, purtroppo è andata per come non doveva andare, quindi il consiglio si è schierato dalla parte del sindaco e a questo punto hanno avuto torto anche loro, ma non si può consegnare un bene così grande a un privato. Questi sono beni che tra l'altro non sono di esclusività del comune di Canicattì, ma di altri comuni che in percentuale sono proprietari delle strutture, sono proprietari del servizio e la decisione va pigliata all'unanimità perché devono essere tutti convinti che non cedere il Tre Sorgenti alla gergente acqua porta una parte dell'economia ad ogni comune, quindi bisogna seguire questa via. Grazie a tutti.